scutisu il primo altoparlante intelligente made in zena hey scutisu ciao nan dimmi ma sai scutisu che con sta storia del coprifuoco io non ci capisco proprio niente e quando mai capisci qualcosa ma no nel senso che dicono che prima scatta alle 22 e poi alle 23 poi alle 24 ma insomma io io voglio vivere la vita voglio fare il viveur e girare tutta la notte magari sedermi su una spiaggia ad ammirare l'alba ma non dire cretinate l'ultima volta che sei riuscita a rimanere sveglio fino a mezzanotte era il capodanno del 2003 e poi da miretta lascia perdere la storia dell'alba tanto sono più di vent'anni che sei sul viale del tramonto scutisu usa tutto lei